Sono 31 i primi laureati, medici e non solo, accolti all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria attivata dal corso di medicina dell'Università della Calabria. Gli specializzanti sono stati accolti dal rettore dell'Unical, Nicola Leone, dal direttore del Dipartimento di Farmacia, Vincenzo Pezzi, e dal direttore generale dell'azienda aspedaliera, Vitaliano De Salazar. Siamo soddisfatti e orgogliosi, ha detto il rettore Leone, di essere già riusciti ad appena due anni dall'avvio del corso di medicina a far aprire ben cinque scuole, che hanno attratto l'interesse di 31 giovani laureati provenienti da tutta Italia. Formare specialisti qualificati direttamente sul nostro territorio è un obiettivo strategico e questo interesse dimostra la bontà del nostro progetto. I benefici saranno molteplici per i giovani, per le strutture sanitarie e per il territorio. Il direttore generale dell'azienda ospedaliere De Salazar ha ottenuto che l'ingresso dei specializzanti dà forma concreta al percorso che l'Unical e questa azienda hanno avviato nel febbraio del 2023. Aver ottenuto l'autorizzazione alle cinque scuole di specializzazione è un risultato importante, altrettanto importante la richiesta dei giovani medici di specializzarsi a Cosenza. All'annunziata questi giovani professionisti hanno la chance di prendere lezioni di assistenza con il tutoraggio degli ottimi medici del Sistema Sanitario Nazionale.